Il sindaco a Campomarzo è nel quadrilatero di Viale Milano insieme ai suoi vigili, quelli specializzati nell'antidegrado. Francesco Ruccoli ha accompagnati nei controlli quotidiani in Via Napoli, Piazzale Bologna, Viale Milano, Corso San Felice, Viale dei Mille e infine un passaggio in Campomarzo. A cattonaggio, consumo di alcol e di droga sono gli storici problemi di degrado di queste zone cittadine. Qui dall'insediamento della giunta sono stati aumentati i pattugliamenti e controlli con anche le telecamere di videosorveglianza. Molti cittadini a passeggio e seduti sulle panchine, segno che le misure adottate stanno producendo effetti positivi. I dati relativi alla sola zona del quadrilatero e di Campomarzo dal 14 aprile, giorno di attivazione del presidio fisso, dicono che a Campomarzo 27 sanzioni hanno riguardato il consumo di alcol, 21 quello di droga e 1 l'accattonaggio. Sono state inoltre elevate 12 sanzioni per accattonaggio in Piazzale Bologna, 6 per consumo di bevande alcoliche e 1 per consumo di droga in Viale Milano, 7 per consumo di droga in Via Torino. L'ultimo dei controlli risale alle scorse ore. Gli agenti hanno fermato e denunciato un 42enne della provincia di Verona trovato in possesso di 0,3 grammi di eroina per uso personale. Il prossimo obiettivo della promozione della sicurezza urbana sarà l'avvio ormai prossimo del progetto sul controllo di vicinato.